Il Real Giulianova esce sconfitto con un tennistico 6-0 dallo stadio Capo I Prati di Fiuggi. La squadra laziale, bisognosa del riscatto dopo la sconfitta di Agnone, si schiera in campo con il 4-3-3, chiave di regia affidata a Filipponi in avanti da Andrea, Papaserio e Macri. Del Grosso con il 4-3-1-2 affida per la seconda gara di fila la cabina di regia al Bebi Cipriani, in avanti ci sono Fioretti e Vitelli. Parte dalla panchina Barlafante, insieme recuperati Dolce e Fazzini. Subito in avanti il Giulianova che al sesto minuto va vicino al gol, quando Moy, liberato in aria da un tocco di Surriano, ci prova in girata con la super risposta di piede del portiere Lagorga che devia in angolo. Passato lo spavento, la squadra di casa inizia a imbastire buone trame di gioco con i difensori giallorossi che faticano a tenere le vivacità dei tre davanti ed in un'azione di queste arriva il vantaggio Frusinate. Macri chiede e ottiene triangolo da un suo compagno di squadra con il 10 che si ritrova solo davanti a Di Piero, che lo trafigge sulla sua sinistra. Preme ancora la squadra di casa quando al diciottesimo va vicino alla rete del raddoppio con Filipponi che con una staffilata da fuori aria fa la barba al palo. La squadra di Del Grosso cerca di rialzare la china ma fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Lagorga. Cosini approfitta il fiuggio al ventiseiesimo quando D'Andrea si infila in un corridoio centrale che lo porta direttamente in aria di rigore dove viene atterrato da Moy. Il difensore ammonito in precedenza viene espulso dal direttore di gara che concede anche il calcio di rigore. Dal dischetto va da Andrea che spiazza Di Piero. Cerca di ridisegnare la squadra del Grosso richiamando Mennilli e Suriano in panchina al posto di Guier e Dolce ma sembra non essere giornata per l'undici del presidente Bartolini che al 32esimo incassa anche la terza rete per mano di Basilico autore di un'autentica prudezza tirando fuori dal cilindro un missile che si insacca alle spalle di Di Piero. Giuliano va alle corde nel finale il primo tempo che incassa anche la rete del 4-0 ad opera di Basilico che dal vertice alto di sinistra dell'area di rigore si accenta e con un grandesto trafigge sul primo pallo l'estremo giallorosso. Nella ripresa il fiuggio cala la pressione in campo, forte dei quattro gol di vantaggio ed allora il Giuliano va cerca di approfittarne per segnare quantomeno la rete della bandiera come al 18esimo con Barlafante autore di una serpentina al limite dell'area di rigore ma il suo tiro viene ribattuto da Scalon, bravo a frapporsi tra la porta e il pallone ma le brutte notizie per il Real non finiscono perché in due minuti il fiuggio porta a sé le reti di vantaggio ed il neoentrato Manfrellotti a realizzare una doppietta. La prima rete arriva al 28esimo quando il neoentrato disegna una traiettoria imparabile per Di Piero sul calcio di punizione per la gioia incontenibile del giocatore di casa ma le gioie per Manfrellotti non sono finite perché passano due minuti e l'attaccante scatta sul filo del fuorigioco e davanti a Di Piero non può sbagliare. Nei restanti 15 minuti più nulla a fine gara i giocatori del Giulianova a colloquio con i sostenitori giallorossi arrivati fin qui e rimasti increduli dal risultato ma soprattutto dalla prestazione con cui è maturata la sconfitta. Domenica Alfadini arriva il Chieti per un derby che si annuncia infuocato. Sì diciamo che gli episodi hanno condizionato ma le gare sono episodi positivi o negativi questa volta sono stati positivi per noi negativi per il Giulianova però guardando egoisticamente la mia squadra devo dire che non ha rubato nulla ha meritato o strameritato il risultato anche se è pesante però nel gioco del calcio si sa quando perdi il lume dell'organizzazione di gioco perché gestisci male le tue emozioni può succedere che prendi le imbarcate io credo che oggi il Giulianova abbia subito un po' questo non essere capace di reagire a una squadra che ha avuto di fronte che invece era molto aggressiva. Ma sì io mi scuso pubblicamente con i nostri tifosi che non si meritavano sicuramente una prestazione del genere sono ragazzi che ci hanno sempre incitato sono venuti in tutti i campi d'Italia dove abbiamo giocato e hanno visto sempre la loro squadra fare delle buone prestazioni poi le partite si possono vincere o perdere quello fa parte del gioco e della bravura dell'avversario però oggi senza nulla togliere al fiuggi cioè il Giulianova praticamente non è entrato in capo per niente questo non lo posso accettare ho detto il silenzio stampo perché penso che sia venuto il momento in cui nessuno debba più parlare ma si debbano fare i fatti e mi assumo la responsabilità di quello che è successo oggi come giusto che sia da presidente Giulianova e però prometto ai nostri tifosi che da domenica prossima vedranno un'altra squadra e un altro tipo di attaccamento alla causa e alla maia perché a Giulianova vogliamo questo poi si può vincere o si può perdere però ci vuole sudare le sette camicie oggi ho visto un certo rilassamento un atteggiamento non spiegabile ecco non c'erano delle motivazioni anche noi come società eravamo tranquilli perché dopo la buona prestazione di Cattolica non immaginavamo mai una cosa del genere quindi abbiamo lasciato anche la squadra tranquilla perché non c'erano insomma delle situazioni particolari e quindi sinceramente faccio fatica in questo momento a capire il perché questa squadra ha questi alti e bassi no non riusciamo a inanellare prestazioni e risultati positivi però devo dire una cosa sinceramente quest'anno ho allestito una squadra che non può trovarsi in questa posizione classifica una squadra che ha nomi importanti e quindi è venuta l'ora che i giocatori ci mettano del loro ci mettano la faccia l'impegno perché voglio dire Giulianova quest'anno vuole stare nella parte medio alta della classifica e ci deve andare con le buone o con le cattive adesso vedremo in settimana se occorrono altri giocatori